Ormai da qualche mese sto intestendo un romanzetto con una signorina della casa di rinfetto ma per comunicare dalla finestra al suo balcone ricorrere dovemmo a una geniale soluzione con l'apparecchio radio che il suo babbo le ha comprato un alfabeto a chiave fra noi due si è combinato così che ad ogni istante noi possiamo comunicar la radio galeotta ogni ora ci serve da contare quando la radio trasmette da Torino vuol dire stasera si attendo al Valentino ma se ad un tratto si cambia di programma questo vuol dire attento c'è la mamma radio Bologna vuol dire il cuor di sogna radio Milano ci penso da lontano radio San Revo stasera forse ci vedremo e radio IGEA vuol dire lontano da te mi sento morire così l'amore fila nell'accordo più perfetto tra me e la signorina della casa di rinfetto si svolge a sfondi musica di jazz e concerti fra un tango di barzisa e una polca di angelini oh quanti appuntamenti amore mio ci siamo dati per mezzo della termini di Alberto ravbagliati senza volerlo tutti ci hanno dato un po' una mano perfino Petralia la Fioressia e il Trionestà i suoi accordi risvegliano i ricordi che in frasi sommesse le tenere promesse che adesso è rotta la vecchia radio Galeo che importa dolce amor i nostri cuori cantano ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti